Penso che una delle cose che mi ha sempre affascinato di Justin Bieber è che la sua vita sembra quasi un esperimento sociale, anche se in realtà è tutto reale. Abbiamo preso un bambino di 12 anni, lo abbiamo messo di fronte al mondo, lo abbiamo reso una superstar globale, lo abbiamo buttato in mezzo ad adulti che lo trattavano come carne da macello e poi ci stupiamo se è crollato. Forse è anche per questo che si dice che diventare famosi vuol dire fare un patto con il diavolo. Sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tema. Cos'è questa meraviglia che vi sto mostrando? È il regalo che mi è arrivato a casa da una di voi che io ringrazio. Ma chi è questo genio dell'arte, questa meraviglia? Si chiama Sabrina, che io ringrazio tantissimo. Sabrina fa quadri iperrealistici di animali e natura morta. Questo che state vedendo qui accanto, Sabri Dipinti, è il suo profilo Instagram che vi lascio sotto in descrizione se voleste contattarla. E quindi questo quadretto meraviglioso si aggiunge alle opere d'arte dedicate ai membri dello staff. Grazie mille Sabrina, andatela a seguire su Instagram, mi raccomando. Di che cosa parliamo oggi? Perché parliamo di Justin Bieber? Perché devo fare un mea colpa? Nel senso che abbiamo parlato di che cosa significa diventare baby star, di che cosa significa essere buttati in un sistema come quello di Hollywood in cui tu non puoi vincere. Ne abbiamo parlato un sacco, ma mi sono sempre concentrata sulle star femminili perché pensavo che fossero quelle più mercificate. In realtà è vero, ma c'è il caso di Justin Bieber che ha veramente dei punti molto inquietanti. Perché Justin Bieber ha avuto, purtroppo anche lui, dei comportamenti stabili dovuti al fatto di essere diventato famoso da molto giovane. A differenza di altre baby star per sua scelta, perché lui ha 14 anni, è stato scoperto tramite YouTube. Quindi è stata una sua scelta, non è stato costretto dai genitori, ma si è ritrovato poi in un mondo che nessuno poteva immaginare. Mi sono capitate su TikTok delle interviste un po' strane. E quindi oggi ne parliamo per, diciamo, aggiungere un altro tassello al quadro macabro di Hollywood. Infatti c'è uno YouTuber che anche lui come me si occupa di far vedere qual è il lato marcio dietro la celebrità, che ha detto una frase molto giusta, cioè la fama può essere un abuso. Se volete un video dedicato a tutte le star, indipendentemente se siano baby star o star che sono diventate magari famose da adulte, che hanno subito degli abusi anche in interviste, anche cioè che si vede come il sistema le abbia mangiate vive, fatemelo sapere sotto nei commenti perché io racchiudo tutto in un video, magari in più parti, dipende quanto è lungo. E quindi fatemi sapere sotto nei commenti se volete vedere un qualcosa del genere. E io sono assoluta troppo comoda, scusate. Allora partiamo dall'inizio, facciamo giusto un breve excursus su chi sia Justin Bieber e poi arriviamo al succo del discorso. Justin Bieber è un cantante di origine canadese, un cantante, un musicista e anche un attore di origine canadese, classe 1994. Tutti ci ricordiamo di quando Justin Bieber è esploso, io ero abbastanza grandicella, quindi non lo ascoltavo. Io all'epoca ero anche metallara, quindi figuriamoci se potevo ascoltare Justin Bieber. What the fuck is Bieber? Però ha fatto un successo incredibile. Le sue fan, anche per il fatto che comunque fossero molto piccole, erano diventate accanite. Cioè credo che lui abbia avuto in assoluto il fandom più accanito di tutti che anche le echelon di Jared Leto Spostati. Nel 2007 YouTube non era la piattaforma che conosciamo oggi. La gente che metteva i video su YouTube non lo faceva con il pensiero di condividerlo con il mondo. Era più una cosa da condividere con gli amici. Un po' come quando uscì all'inizio Instagram. Cioè era un... Mettevi le storie per i tuoi amici per far vedere quello che facevi post all'inizio, neanche le storie. Comunque la madre di Justin Bieber, Patti Malette, è rimasta incinta a 18 anni. I genitori di Justin Bieber non sono mai stati insieme, anche se lui comunque ha continuato ad intrattenere un rapporto anche col padre, ma ha vissuto con la madre e con i nonni materni. Ha subito mostrato un grandissimo talento per la musica. Lui ha iniziato suonando la batteria perché si vedeva che aveva proprio questo senso del ritmo. Poi ha iniziato anche a cantare e a suonare la chitarra. Sua madre ha iniziato a mettere i video di Justin Bieber su YouTube, che presto hanno fatto, e questo più o meno aveva 8-9 anni quando ha cominciato, metteva su YouTube anche le riprese degli spettacoli magari che faceva nei teatrini piccolini, le recite della scuola, metteva tutto quanto, e ha iniziato ad avere un discreto successo già online, fino a che non è stato notato da un produttore. Scooter Brown, che chiamò la madre e gli disse guarda perché non venite ad Atlanta spesato tutto da me, vediamo un pochino se sei convinta senza fretta, senza vincoli, firmiamo un contratto per fargli produrre qualcosa. Quindi alla fine la madre porta Justin ad Atlanta e accettano, insomma, firmano il contratto e viene pubblicata la sua prima demo. Questo Scooter Brown ha cercato di proporre Justin Bieber a case discografiche molto grandi per far sì che lo prendessero, ma siccome lui era piccolo perché aveva 12-13 anni, le case discografiche lo rifiutavano, dicevano no, guarda, ti conviene passare per Nickelodeon o Disney perché è troppo piccolo, non sappiamo che farci, fino a che l'LP, diciamo il CD della canzone di Justin Bieber non è finita nelle mani di Asher, Asher il cantante, che è stato lui a credere in Justin Bieber ed è stato lui a lanciarlo, fino a farlo diventare il Justin Bieber che abbiamo conosciuto. Justin Bieber veniva chiamato, e questo lo disse Asher, il McCauley Culkin della musica, perché comunque era piccolo però era già, cioè la sua carriera è stata abbastanza veloce, diciamo, nella sua ascesa, però a differenza di McCauley Culkin come abbiamo visto in questo video, Justin non è stato costretto dalla madre a cantare, lui voleva fare il musicista, lui era convinto, ma il fatto che sia stata una sua scelta a 13 anni non significa che tutto quello che gli è successo sia giustificato, perché quello che abbiamo sempre cercato di far capire in questi video è che tu non ti rendi conto in che cosa ti stai mettendo, perché fare l'artista a livello mondiale non è sbagliato, che sia attore, musicista, quello che sia, è il sistema che è marcio, ma questo sistema, il sistema capitalista puro americano, ti spinge, cioè ti crea il bisogno di diventare famoso, e poi ti dice, te lo soddispo io, questo bisogno, ecco perché tutti noi vogliamo diventare famosi, il problema è che una volta che diventi famoso, il sistema stesso che ti ha spinto a far di tutto per entrare, è anche quello che poi ti mangia, è anche quello che poi ti sovrasta, perché è fatto male, perché è marcio, e questo sistema ha saturato così tanto Justin Bieber, così come è successo ad esempio a Britney Spears, l'abbiamo visto e a tante altre star, che alla fine ha trasformato un ragazzino dolcissimo che voleva fare il musicista in un ragazzo che ha avuto poi chiaramente delle cadute, è inevitabile, di che cosa parlo, le vediamo giusto al volo perché non è questo il senso del video, però Justin Bieber aveva iniziato poi piano piano a rispondere male ai paparazzi, perché chiaramente come il caso di Britney Spears se lo seguivano ovunque, è stato fermato diverse volte per guida spericolata in Kansas, è stato fermato e arrestato per guida in stato di ebbrezza, in Brasile è stato accusato di vandalismo perché ha imbrattato i muri con lo spray, ha lanciato delle uova a casa del vicino, ha distrutto una camera d'hotel al Copacabana Hotel, e a 19 anni sono travelate delle foto di lui che dormiva con una prostituta, quindi all'epoca anche a lui hanno dato l'appellativo di ecco l'annesima star bambina caduta per via degli eccessi, per via di tutti i soldi che aveva, ecco entriamo come abbiamo fatto per tutte le altre star nel merito della cosa, e cerchiamo di non di giustificare le sue azioni, ma di portarle in un panorama più ampio, perché chiaramente Justin Bieber poi è stato anche dipendente da sostanze, come vi dicevo prima ho trovato delle interviste abbastanza inquietanti, che però sono esplicative del marcio del sistema, cioè quello che vi sto per mostrare a me ha inquietato parecchio, quindi fatemi sapere se voi vi sentite dopo aver visto questi filmati un po' sporchi, perché vi dico questo? Perché Justin Bieber è stato sessualizzato all'età di 14 anni, 15 anni quando è diventato famoso, nello stesso modo in cui venivano sessualizzate le altre baby star come Britney Spears, pensate che per giustificare la sessualizzazione data a un ragazzino di 14 anni, è stata utilizzata la frase perché Justin Bieber sembra una donna, ve lo giuro, sono le parole esatte di L.A. Reid, il suo produttore dal 2008, per darvi un'idea di chi è L.A. Reid, è il produttore che ha lanciato star come Avril Lavigne, Rihanna, Dido, I One Direction, insomma è un produttore di fama internazionale, lui nel suo libro dice delle frasi un pochino ambigue su Justin Bieber, lui scrive nel libro Justin Bieber di 14 anni era bello come una donna, che fin qui è già un po' inquietante, perché voglio dire, puoi dire che un ragazzino è carino, però di professionalità io qui non ne vedo, ma andiamo avanti perché non finisce qui. L'Huffington Post riporta che in diversi punti del libro di L.A. Reid parla del suo incontro con Justin Bieber, cioè quando Asher portò il 14enne nel suo studio e la prima cosa che pensò fu questo ragazzo è bello come solo una donna può essere bella e gli uomini lo sono raramente, era evidente non appena entrava nella stanza, Justin era semplicemente bellissimo. Allora signorelle L.A. Reid, abbiamo capito che Justin era un bel bambino, perché era un bambino, aveva 14 anni, ma insomma, cioè, con calma, poi anche questa giustificazione del fatto che dice era bello come una donna, cioè della serie gli devo fare gli apprezzamenti perché sembra una donna, quindi è giusto che io lo tratti così. Poi vabbè, L.A. Reid è stato anche accusato di molestia da alcune sue dipendenti, però questo poi è un altro discorso. Però capite che, insomma, già era strana come cosa, cioè io vedo delle dichiarazioni strane dentro, cioè in questo punto, che lui era il suo produttore, è stato il suo produttore per anni. Ma adesso arriviamo al momento delle interviste, perché in queste interviste vedete proprio come un ragazzino viene buttato nella fossa dei leoni e viene mangiato. Partiamo con questa intervista alla radio. Guardate cosa fa questa presentatrice. Wow! I feel violated right now! Ragazzi, questa è una molestia. Cioè, pensiamola ad oggi questa cosa. Questa cosa è una molestia. Una signora ti prende, ti bacia di forza, ti palpa davanti a tutti perché. Ma non finisce qui, perché secondo me la cosa più inquietante che ho visto è stata questa. Cioè, James Gordon, che mentre parla con lui in diretta televisiva, lo annusa e gli dice che buon odore che hai. Ma, ragazzi, cioè, ma ci stiamo rendendo conto? C'è perché vi dico nella fossa dei leoni. Cioè, lui sembra un pezzo di carne. Sembra un pezzo di carne. Ma tu puoi fare una cosa del genere, James Gordon? Ma come ti salta in mente? Come ti salta in mente? Per non parlare di Katie Perry. Cioè, capite dove voglio arrivare? Nel senso, lui, come Britney Spears e tante altre baby star, cioè, invece di essere trattati come dei ragazzini talentuosi, cioè, venivano proprio trattati come dei pezzi di carne. Ma poi, come se fosse normale, ma con quanta naturalezza, ma che ti parli? Perché mi dovresti molestare, obiettivamente? Cioè, era necessario? Cioè, veniva trattato non come un ragazzino, come un bambino, di una piccola stellina che magari dice eh, così ti fai perdere di credibilità, però è un bambino, lo tratti come un bambino. No, no, veniva trattato proprio come un oggetto sessuale. Cioè, senza il minimo rispetto. Quindi capite quando vi dico che è stato buttato nella fossa dei leoni così come altri che il sistema è marcio? Inoltre, il fatto che tu lo fai con una naturalezza del genere significa che è normale per te, che è un sistema in cui sono abituati a farlo. Cioè, perché sei abituato a fare una cosa del genere a dei ragazzini? E questa è la domanda che noi ci facciamo da tutti questi video. Poi uno dice si creano i complotti, ma ragazzi, qualcuno mi dia una spiegazione. Ma non finisce qui. Perché quando era più adulto, ma non così adulto, credo che avesse 20-21 anni, qualcosa del genere, ha fatto un'intervista con Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres è appunto una presentatrice americana che ha una faccia da folle. Infatti è stata accusata, non mi sono tanto informata perché qui in Italia non è famosa, però è stata accusata di diverse cose. Ha fatto questa intervista con Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres ha fatto vedere in diretta televisiva e questo video è anche su YouTube, quindi come se fosse una cosa normale, la foto che gli aveva scattato un paparazzo di lui che era in vacanza in casa sua completamente nudo. Cioè, partiamo dal presupposto di leggere il paparazzo come ti permetti a condividere le mie foto nudo, innanzitutto. Seconda cosa, Ellen DeGeneres cosa fa? La fa rivedere. Cioè, la fa rivedere in diretta e si vede già sinché è completamente a disagio e dire, ma scusami, ma come ti casca in mente? Infatti lui a un certo punto dice anche non è stato piacevole vedere il mio pene spiattellato ovunque. Capite che c'è proprio una mancanza di rispetto. C'è una mancanza di rispetto totale in questa cosa. Ad oggi Justin Bieber soffre di diversi disturbi mentali come nell'intervista che vi ho fatto vedere nella intro e lui si rende conto e dice io ero troppo piccolo per finire in una cosa del genere perché vi ripeto qui non si parla del fatto che per carità come dico sempre la fama è comunque una prigione perché sei circondato e perseguitato dai fan dai paparazzi non puoi uscire di casa ma è anche il sistema della televisione anche il sistema di Hollywood che ti tratta come un oggetto e lui ha capito che si era messo in qualcosa che era troppo grande per lui e lui era troppo piccolo e infatti soffre di diversi disturbi adesso di ansia inoltre recentemente è uscito anche un documentario che trovate qui su YouTube in cui spiega la sua dipendenza dalle droghe che insomma ha avuto nel corso degli anni chiaramente perché non riusciva a sopportare tutto questo sistema più vedi queste cose e più ti rendi conto del marcio cioè lui era il tassello che mancava perché io mi sono concentrata prevalentemente sulle grandi star donne perché chiaramente la diversificazione della donna è un qualcosa che insomma soprattutto all'epoca era un qualcosa di molto naturale ma è successo anche agli uomini magari io adesso non lo so potrei informarmi magari è successo che ne so anche i Backstreet Boys all'epoca o i One Direction questi bellocci della televisione perché Justin Bieber come avete potuto vedere è stato veramente trattato come un oggetto sicuramente ad oggi c'è forse un po' più di consapevolezza però comunque la storia di Justin Bieber è abbastanza recente cioè non caschiamo dal pero perché quello che cerca di fare anche Hollywood cerca di dirti prima succedeva prima prima ma in realtà non è prima perché è successo fino a qualche anno fa quindi infatti anche questa storia di Justin Bieber passa un po' in sordina perché anche io sinceramente non mi era proprio neanche venuto in mente di andare a cercare qualcosa ho beccato queste interviste su TikTok e ho detto ma veramente fatemi sapere voi che cosa ne pensate spero di non avervi turbato troppo magari se ci sono delle fan ex fan o fan di Justin Bieber purtroppo questo poverino anche lui è passato in questa mercificazione fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti noi ci vediamo martedì quindi vi auguro un buon weekend ciao ciao